Buongiorno a tutti, ecco il nuovo numero di Rizza, dedicato ai dubbi e all'indecisione. Ma chi di noi non l'ha avuto nella vita, nei momenti in cui non sapeva cosa decidere, tra un amore, tra un lavoro, un altro, su cosa fare con i figli, insomma e così via. Tutti abbiamo avuto dubbi e indecisioni. E molte volte ci siamo sentiti persi a questo dedicato Rizza di questo mese. Su questo numero parliamo a lungo con un test e di quelle che secondo noi sono le cose importanti da fare, da dire a noi stessi, perché il cervello produca le capacità che possiede e che risolvono le questioni fondamentali della nostra vita. Cioè dentro di noi c'è qualcosa, uno psicologo interiore, un sapere, che ci può guidare a patto che noi usiamo certi codici, certe chiavi rispetto ad altre. Io intanto vi ringrazio perché le mail che arrivano sono tantissime. E soprattutto sono email di persone che hanno applicato molte delle cose che scriviamo e che le hanno portate ad approdare nel benessere. Tutti pensano che i disagi devono durare mesi, anni, o che i disagi che durano da anni non possono andare via. Il mio lavoro mi ha insegnato che non è vero e descrivo in questo numero di Rizza alcune storie. Una signora per esempio che soffriva di attacchi d'ansia molto forti aveva letto sul numero di Rizza che è molto importante in certe ore della giornata cambiarsi il nome. Cosa vuol dire cambiarsi il nome? È una tradizione antichissima, vuol dire far entrare la propria identità in un altro suono. Non sono Raffaele, sono Guglielmo. Non sono Raffaele, sono Roberto. Come Raffaele ho in mente una mia vita, uno stile, un modo di muovermi. Come Guglielmo ne ho altri, un altro modo di vestirsi, un altro modo di parlare, altri linguaggi. I bambini sono maestri del cambio del nome e i bambini spesso parlano con un amico sconosciuto. Si fanno guidare da un amico sconosciuto. Ecco, io penso che se noi impariamo a stare con il nostro amico sconosciuto, a darci un altro nome, noi cambiamo l'identità. Magari come Francesca non si riesce a uscire da un rapporto difficile, ma come Roberta, senza neanche saperlo inconsciamente, si mettono in atto dei meccanismi, si incontrano persone, si parla con amiche che ci indicano la strada. Cosa fare quando arriva un dubbio? Quando arriva un'indecisione? Quando proprio non sappiamo cosa fare? Insomma, come dicevamo all'inizio, come è scritto su questo numero di Rizza, quando siamo perduti. Bisogna imparare l'arte di non decidere. Io non sto male, come credo, perché non sto decidendo se lasciare o stare con mio marito. Questa è un'energia della superficie che mi appare. Io sto male in quanto il mio mondo interiore non si sta esprimendo. Allora, via dalla decisione. Tanto se ci si deve lasciare, prima o poi la decisione la si prende spontaneamente. via dal dolore del disagio, via dalla lotta, via dal conflitto. E largo all'immaginazione di che cosa soprattutto? Di codici naturali. immagino il larice, che è la mia pianta preferita, mi riposo sotto le sue fronde. immagino occhi chiusi di camminare in un posto dove vicino a me c'è un animale protettivo che mi accompagna. Così facevano gli antichi. Gli antichi avevano una pianta, un profumo, un animale che li accompagnava. assolutamente mai, mai insistere su quello che identifichiamo come il problema. Devo chiamare in causa, e lo vedo dalle vostre mail che molti l'hanno compreso molto bene, devo chiamare in causa le mie radici naturali. Quando immagino una pianta entro nel regno del cervello, in quei circuiti del cervello, dove c'è la natura. La natura che si presenta sotto forma di un profumo, di un animale amico. Ed è chiamare in causa le aree cerebrali, dove il cervello ha soluzioni primordiali, dell'energia primordiale, dell'energia più antica. Al di sotto del pensiero, solo al di sotto del pensiero, si entra in uno stato simile al sogno. L'energia del sogno è l'energia della notte che ci cura. Se prima di andare a letto immaginiamo una scena naturale, è come se dicessimo alla Signora della Notte, al Regno della Notte, prenditi cura di me, portami in mezzo al mare, portami in montagna, portami in campagna, e regalami l'erba, la pianta, il sogno che si prenda cura di me. Prendersi cura di sé non è decidere, ma è affidarsi alle immagini, alle immagini naturali prima di tutto e più di tutto. Sono veri i propri i farmaci per il cervello? Sono veri i propri i farmaci che spengono i conflitti? Buona lettura. Grazie. 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 Grazie.